La sicurezza assoluta, secondo gli standard più elevati, è una nostra prerogativa come costruttori di veicoli premium. Ciò che rende le nostre auto così uniche è il nostro approccio globale verso il concetto di sicurezza, afferma Klaus Kompas, direttore della sicurezza dei veicoli del BMW Group, nel descrivere la filosofia di sicurezza del BMW Group. In un'auto del BMW Group il conducente può affrontare ogni circostanza con un atteggiamento disinvolto e rilassato. È assistito infatti da sistemi di controllo in grado di gestire situazioni particolarmente dinamiche, senza difficoltà e con l'adeguata attenzione. Ecco il crash test frontale per l'omologazione delle nuove auto. Come vedete, questo crash test avviene contro una barriera deformabile, a una velocità massima di 56 km all'ora. Il risultato del test è stato ottimo e ne siamo molto soddisfatti. Come potete vedere, la maggior parte dell'energia è stata assorbita dalla parte frontale dell'auto. Le porte possono essere aperte senza utilizzare utensili e il sistema di ritenuta ha funzionato molto bene. Vediamo che gli airbag sono in una posizione ottimale. Siamo molto orgogliosi del risultato di questo test. L'ACC Stop & Go è solo uno dei tanti sistemi di assistenza che il BMW Group offre ai propri clienti. Ulteriori esempi sono il Lane Change Warning, avviso di cambio di corsia, che avvisa il conducente con un segnale visivo quando eventuali veicoli si avvicinano nell'angolo cieco del conducente. Il Lane Department Warning, avviso di uscita di corsia, che riconosce un'involontaria deviazione della corsia e fornisce nuovamente al conducente un chiaro feedback tramite il volante. Altri sistemi di assistenza sono lo Speed Limit Indicator, indicatore del limite di velocità. BMW gestisce la sicurezza secondo un approccio olistico. Come spiega l'espressione sicurezza integrale utilizzata all'interno da BMW Group, ci occupiamo del miglioramento delle condizioni di guida normali, con soluzioni mirate a migliorare situazioni critiche per il conducente. L'incidente migliore è quello che non accade. Noi ci concentriamo molto sulla prevenzione degli incidenti. Per esempio, molti incidenti che coinvolgono pedoni si verificano a tarda ora, nel tardo pomeriggio o di notte, quando è buio. Il sistema BMW Night Vision, che integra la funzione per l'individuazione dei pedoni, è in grado di rilevare pedoni davanti all'auto a una distanza massima di 300 metri, informando il conducente della loro presenza e del potenziale pericolo.